Conferenza stampa al peperoncino questa mattina presso la sala multimediale del comune di Napoli in via Verdi. L'onorevole Marcello Taglialatela e il capogruppo del PDL in consiglio comunale Carlo Lamura hanno attaccato duramente l'amministrazione Iervolino. Tema della conferenza le criticità e la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Napoli. Sono 20 anni che il comune ha affidato alla Romeo la gestione del patrimonio immobiliare. Prima si chiamava ER che stava per Enidata Romeo ma sostanzialmente il managgio è rimasto lo stesso e non mi pare che in questi 20 anni sia migliorata la qualità nella quale si presentano gli immobili di proprietà del comune di Napoli né che il comune di Napoli ci abbia guadagnato nell'affidare all'esterno la gestione. Lo dicevo prima in conferenza stampa, lo ripeto per chi ci ascolta, il comune di Napoli è il più grosso immobiliarista del sud Italia nel senso che nel sud Italia non c'è nessun'altra società pubblico privata che ha un patrimonio immobiliare così vasto ed esteso come il comune di Napoli. Normalmente le società immobiliari sono ricche, incredibilmente il comune di Napoli viceversa deve registrare perdite nella gestione e tra l'altro assicurando un servizio certamente di qualità scarsa. Vi domando perché ci accade. Noi siamo convinti che il primo problema sia l'amministrazione comunale, non tanto Romero, ma è il gestore di un servizio. Poi se non si ottiene dal gestore convenzionato del servizio la massima trasparenza da un lato e concretezza dall'altro della gestione è sempre e soltanto responsabilità dell'amministrazione.